Parte dal sindaco di Cattolica Ereclea, Santo Borsellino, e condivisa da ben 35 sindaci della nostra provincia una lettera indirizzata al prefetto Diagrigento, al presidente della regione Musumeci, all'assessore alla salute Razza, ai vertici dell'ASPE, dove si esprime una forte preoccupazione per l'aumento probabile dei casi di coronavirus, come recentemente l'assessore alla salute Dottor Razza ha stimato per la nostra regione un numero di casi compreso tra i 4.500 e i 7.000, e di questi circa il 10% avrà la necessità di cura ospedaliera in ambiente intensivo e subintensivo, consapevoli che in caso di propagazione della malattia la nostra ASPE, quella di Agrigento, non potrà mai garantire un'adeguata risposta, poiché su una popolazione di 500.000 abitanti circa, per far fronte all'emergenza, l'ASPE dovrebbe dotarsi di almeno 30 posti letto in terapia intensiva e di almeno 250 posti letto in terapia subinvenziva, e anche a oggi nessun presidio Covid è stato completato e ciò rischia di esporre sia gli operatori in servizio a non contenerne la diffusione. La macchina dell'ASPE, per il sindaco e i suoi colleghi, ci appare assolutamente inadeguata rispetto ai bisogni emergenti, risultando in forte ritardo rispetto alle necessità incombenti e reali. Pertanto i sindaci chiedono di conoscere il numero dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva destinati al Covid-19, a oggi realmente in funzione e qual è l'eventuale programmazione, che venga urgentemente riconvertito a presidio Covid al fine di creare un percorso unico dei malati di Covid-19 rispetto alle altre patologie ricorrenti, un presidio ospedaliero del territorio provinciale, che venga fatta un'indagine epidemiologica sui casi positivi e se sono stati sottoposti a tampone, rino, faringeo, i familiari e i contatti stretti di detti casi, di conoscere il numero dei test che sono stati fatti, se sono stati individuati dei laboratori adeguatamente attrezzati a seguire i tamponi, se sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale sanitario e ai medici di famiglia, al personale del 118 e in particolare delle case di riposo e di cura, e se il personale sanitario è stato fornito dei dispositivi di protezione individuali e in quali quantità. Quindi i sindaci concludono, riteniamo di esprimere una forte preoccupazione per quanto sta accadendo e senza voler alimentare polemiche, auspichiamo che la direzione dell'ASPE di Agrigento, in tempi stringenti, senza ulteriori indugi, prenda le adeguate iniziative affinché si possa contrastare in maniera efficace le necessità incombenti, coerentemente con l'impegno che i sindaci della provincia stanno dimostrando.